Ciao amici di Radio Ucci, io sono Giulia, in questo focus agroalimentare parliamo dell'edizione 2022 di Terra Madre Salone del Gusto, che si terrà dal 22 al 26 settembre a Torino, nella nuova location a Parco d'Ora, luogo periferico e simbolico. Con oltre mille eventi in cinque giorni e l'ingresso completamente gratuito, Terra Madre Salone del Gusto si prospetta essere un evento imperdibile per tutti gli amanti della cucina. I primi eventi sono già consultabili nel calendario del sito online di Terra Madre, mentre tutti gli altri sono ancora una sorpresa. Sappiamo però che ci saranno i tradizionali laboratori del gusto, gli appuntamenti a tavola e le conferenze, oltre all'arrivo da tutto il mondo di 3.000 delegati di Terra Madre, fra contadini e allevatori, popoli indigeni e cuochi, migranti e pescatori. Tema principale della manifestazione è la rigenerazione e, come sottolinea il fondatore di Slow Food, Carlo Petrini, per realizzare un vero e proprio rinnovo di città, campagne e borghi, bisogna superare la visione che vede innovazione e tradizione come elementi contrapposti, perché in realtà una vera innovazione esiste solo quando una tradizione ha successo. e per ora è tutto, al prossimo Focus!